yuk 43 16 ciao a tutti ragazzi sono yuk e faccio quest'altro video per annunciarvi alcune cose che sono successe oggi allora come voi tanti sapete mi hanno invitato una radio una radio online che andando su questo sito su questo link vi metterò in descrizione le ultime 5 gli ultimi 5 blocchi potete riascoltare quello di cui si è stato parlato e potrete sentire gli insulti che mi sono stati fatti in diretta da gente di merda ma non è di questo che voglio parlarvi ragazzi è di tutti gli insulti che mi stanno arrivando del tipo non vedo l'ora che tuo figlio muoia non vedo qua non vedo la sempre rivolto ai miei figli sempre gente di merda e teste di cazzo ma adesso vi mostrerò anche i canali vi mostrerò di chi sto parlando sapete perché ve lo mostro perché perché ragazzi perché sono stati denunciati sono subito stati denunciati è partita una bella denuncia bella 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 e sto parlando di questo bel signorino questo è il suo canale ragazzi questo è il suo canale guardate e sappiate che quello questo qua la foto il fotomontaggio qui la foto è la mia per cui ha usato anche la mia immagine per cui doppia denuncia e ti voglio dare un consiglio almeno sistemala bene perché il fotomontaggio non è venuto bene testa di cazzo e voglio farvi vedere il video che ha caricato il video che ha caricato sentito ciao a tutti sono stanco di questa feccia che si vede su youtube stanco di questi canali di merda pura merda tutti identici tutti uguali tutti stereotipi ma in particolar modo sono stanco di un canale quello di luke 4316 lui è il più grande pezzo di merda che io ho ok ragazzi come al solito avete sentito che usa programmi perché non c'ha i coglioni di mettere la sua voce ma la sua voce la si si sente perché è la prima voce delle altre dell'eco del programma che ha usato per cui la voce di bimbo minchia l'avete capito anche voi e comunque sia io ho la voce originale perché tramite un altro programma ho preso la voce originale e si è beccato un'altra denuncia e un'altra cosa che volevo dirvi ragazzi lui in questo video in poche parole dice che mi smente mi smerda che io in un mio video ho detto che odio la gente che bestemmia quando invece in un video ho bestemmiato anch'io è vero ho bestemmiato anch'io ma io nel mio video non ho mai detto mai che io odio quelli che bestemmiano ma ho solamente detto che quelli che fanno quei tipi di video hanno più visualizzazioni per cui le ho preso nel culo due volte non è solo lui ragazzi non è solo lui ma è anche quest'altro bel canale un altro tipo di canale che sarà sempre lui perché sono due canali creati oggi sarà sempre il solito bimbo minchia i canali consigliati sono sempre loro Flegias, MrPak17, lì quello lì che avevo già insultato altri due, il coglione di Zeb e sempre con le mie foto sempre con le mie foto io ho denunciato tutti i due i canali comunque sembra lo stesso IP e per cui è sempre il solito coglione e un'altra cosa ragazzi un'altra cosa un'altra cosa un'altra cosa che volevo dire si ascoltate la fine di questo video perché è molto interessante ascoltatela bene non so se si senta bene ma andatevi a guardare il video secondo me ti devi vergognare e ora ti saluto ma questa non è l'ultima volta che ci vediamo no avremo molte occasioni di vederci ciao Luke stammi bene se non l'avete sentito bene in poche parole mi saluta e dice che ci saranno tante occasioni per vedermi eh sì ce ne saranno tante ma la più principale la più importante è quella che ci vedremo in tribunale grandissima testa di cazzo e un'altra cosa un'altra cosa che dire ragazzi che dire su sti pezzi di merda che sono dei pezzi di merda quello l'ho già detto se volete lo ridico siete dei pezzi di merda eh quest'altro ragazzi che nella descrizione nella sua descrizione ha scritto Luke ti sborro negli occhi per cui veramente doppio bimbo minchia perché non sai neanche cosa vuol dire questa parola mi sa perché come ho sempre detto ragazzi questa cosa qua che non voglio neanche ripetere perché mi fa schifo ripeterla pure a me eh questa cosa qua loro non sanno nemmeno cosa sia perché a loro non gli esce gli esce solo la pipì come ho già detto in un altro video perché sono solo dei bimbi minchia siete siete cagasotti siete conigli siete pisciaturi siete pezzi di merda siete non so più che cazzo aggiungervi ragazzi volete che vi insulto volete questo volete arrivare a questo e io arrivo qual è il problema pensate che ho paura io vi insulto siete dei pezzi di merda ci saranno altre occasioni con cui vederci come non hai i coglioni non hai le palle non hai le scatole non hai un cazzo per fare video con la tua vera voce e crearti canali finti e poi mi dici ci vediamo in altre circostanze in altre occasioni ma spero di vederti io spero di incontrarti perché ti tirerei tanti di quelle schiaffi in faccia che ti farei ricordare il giorno che sei nato ma non c'è neanche bisogno che te lo ricordi perché tu quel giorno secondo me sarà anche stato uno sbaglio dei tuoi genitori non dovevi neanche nascere grandissimo coglione che non sei altro e ora ho i coglioni pieni perché non sanno fare altro che augurare morte alla mia famiglia mi stanno dicendo non vedo l'ora che muoia la tua famiglia loro come tutti gli altri come questi qua ragazzi aspettate che vado al video vi faccio vedere che mi hanno mandato anche messaggi su commenti sul canale che io ho cancellato questi qua testimoni di Geova 3 testimoni di Geova 2 e altra gente che sono grandissimi pezzi di merda pure loro se non tiffi i testimoni di Geova ti morirà tuo figlio all'istante tutte cose del genere ragazzi perché non avete i coglioni di venirmelo a dire in faccia pezzi di merda, pisciaturi, cagasotti, sempre dietro un cazzo di monitor a farvi le prugnette, a però guardarvi i miei video, a seguirmi nelle radio, ad ascoltarmi sempre per cui siete solo dei invidiosi cagasotti, avete paura di tutto, avete paura pure della vostra ombra perché mettete voci finte, canali finti rosicate, invidiosi e gelosi di merda, io l'ho sempre detto, io andrò avanti e voi sarete sempre bimbi minchia sarete sempre sotto, sarete sempre sotto di noi, non vi rialzerete più da terra, non crescerete mai sarete sempre dei bimbi minchia e ragazzi vorrei insultarli, vorrei continuare ad insultarli per altri 10 minuti ma non c'ho voglia non c'ho voglia perché quello che dovevo fare l'ho fatto e usare anche la mia immagine per crearsi i canali, bella questa, bella ti piace la mia foto vero, vorresti essere come me? io non dico di essere un figo, di essere un bel ragazzo, però sei solo un bimbo minchia pisciaturo perché non metti la tua di foto, perché? perché hai paura? perché non vuoi farti riconoscere? bimbo minchia? ci sei? mi stai ascoltando? pezzo di merda? stai guardando anche questo video? stai ridendo dietro il monitor perché io... Luke ha fatto un video in cazzatura un'altra volta, stai ridendo, stai godendo adesso io sto mostrando il tuo canale, pensi di prenderti iscritti? pensi che adesso la gente accorra subito da voi a iscriversi? questo qua è un grande, dice delle cose vere eh sì ragazzi, sì, infatti adesso correranno tutti, però sapete cosa? a insultarvi, per cui caro mio bel deficiente di merda che non sei altro non ne hai neanche fatto in tempo a chiudere il canale, ti sei beccato una bella denuncia e... per cui chiudi il canale, fai quello che vuoi, rimani, fai altri video, fai tutto ciò che vuoi sappi chi ti ho denunciato, non ho parole perché non ve la sapete prendere con me non ve la sapete prendere dicendo... parlando seriamente con la vostra voce con i vostri veri canali, non sapete venirmelo a dire di persona in faccia ma sapete solo, mente solo, augurare morte ai miei figli augurare le cose più brutte di questo mondo siete solo dei pezzi di merda, teste di cazzo coglioni, ambulanti, deficienti, rincoglioniti, scemi, scemi mentali io non so più che cazzo, perché è inutile insultarvi, non vi meritereste nemmeno insulti perché gente di merda come voi non merita nemmeno di stare al mondo meno male che siete in via di estinzione, meno male perché tanto i bimbi minchia non è che durano tanto ragazzi perché nella vita, nella vita i bimbi minchia non vanno da nessuna parte perché un conto su youtube è dove si nascondono ma nella vita reale cosa fai? ti nascondi dietro un albero? ti nascondi dietro una casa? scappi? cosa fai? scapperai per tutta la vita perché sei solo un codardo, sei un coniglio ti nascondi e basta e nella vita farei lo stesso spasserai la vita a nasconderti e poi un giorno forse, se sei intelligente forse ma non credo a dire minchia cosa ho combinato potevo pensarci prima per cui grandissimo deficiente, sei solo rincoglionito, deficiente coglione per cui ho detto già troppe volte per cui ho già dedicato troppo del mio tempo nei vostri confronti e che dirvi di più? che siete le teste di cazzo e questa volta il saluto ve lo faccio guarda, voglio scendere i vostri livelli non voglio dire da Luke è tutto ciao a tutti ma ve lo dico con la vostra vera voce da Luke è tutto ciao a tutti rosicate rosicate che io andrò avanti lo stesso pezzi di merda io andrò avanti e voi? rosica 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 bimbo minchia rosica rosica mamma Grazie a tutti.